Componenti. Le proprietà befiche della senape si conoscono sin dai tempi antichi. La spezia ottenuta dalla frutta se ha fu usata per curare la chioma. È in grado di accelerare la crescita e fermare la caduta dei capelli grazie ai componenti salubri contenuti, vitamina, E, C, D e quelle del gruppo B, capsaicina, acido linoleico, enzimi, oli essenziali, magnesio, calcio, toferro, zinco. Proprietà utili per i capelli. Innanzitutto il prodotto è indispensabile quando si tratta della caduta eccessiva dei capelli e dell'alopecia in una fase iniziale. La senape contiene la capsaicina, ingrediente che possiede gli effetti irritanti, accelera la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Nutrerete le cellule con l'ossigeno e avvia i processi di scambio nei follicoli. Utilizzando la senape potrete ottenere i seguenti risultati. Di accelerare la crescita dei capelli, rafforzare le radici e fermare la caduta, ridurre la grassezza dei capelli, rendere la chioma più spessa, ricostruire la chioma danneggiata su dalla lunghezza. Prevenire la rottura dei capelli, nutrire il bulbo e renderlo forte, sbarazzarsi dalla seborrea grassa. A chi è adà il prodotto? La polvere alla senape adà alle ragazze con il cuoio capelluto tendenzialmente grasso poiché possiede proprietà assorbenti e disinfettanti, riduce la produzione di sebo, e elimina le cellule morte e i batteri patogeni. È indispensabile per le ragazze che vorrebbero far crescere i capelli perché aiuta a rafforzare la chioma, renderla più forte e risvegliare i follicoli pipiferi dormienti. Secondo i feedback di alcune acquisitrici i capelli diventano 3 cm più lunghi in un solo mese. Controindicazioni. Nonostante l'efficienza superiore del prodotto in alcuni casi la senape potrebbe danneggiare i capelli e l'organismo intero. Le ragazze con il cuoio capelluto se o devono usarlo con cautela poiché la spezia riduce la produzione di sebo potrebbe causare la forfora e disidratare la chioma rendendola secca e spezzata. L'uso del prodotto è sconsigliato anche in seguenti casi, in presenza di dermatite, in presenza delle ferite sul cuoio capelluto, gravidanza, intolleranza personale, sensibilità eccessiva della parte pelosa e del derma. Siccome la senape contiene tanti ingredienti, la circolazione sanguigna viene accelerata. Prima di applicare qualsiasi prodotto è necessario fare un test per individuare intolleranze personali. Bisogna mettere una goccia del composto sul polso e aspettare 30 minuti. Se si manifestano rossore prurito, eruzione cutanea e le altre conseguenze negative non si può usare il prodotto. Se non ci sono cambiamenti sulla pelle potete iniziare il trattamento. Principi di applicazione La maschera alla senape dà ottimi risultati solo se viene realizzata in modo correo e se verranno rispettate le precauzioni. Durante il percorso curativo, prima di tutto si deve usare la polvere e non la salsa di senape che contiene tantissimi additivi chimici. La confezione non andrebbe lasciata aperta altrimenti il prodotto perde le proprietà benefiche. Bisognerebbe seguire anche i seguenti consigli La polvere viene diluita solo con acqua calda non più di 35-37 gradi S perché so L'influenza di alte temperature si possono liberare vapori pericolosi e l'acqua fredda, invece, non dà nessun effetto. Il prodotto va applicato solo sui capelli asciui lavati da qualche giorno. Se i vostri capelli sono normali o secchi sulle punte aggiungete nella maschera il miele, tioli naturali, il kefir o qualche altro Prodotto grasso per prevenire la scarsa idratazione Per la prima volta bisogna tenere il composto sui capelli non più di 6 minuti. Il tempo di posa viene aumentato gradualmente ma comunque non deve superare 20 minuti per evitare la bruciatura. Durante il trattamento si sente il bruciore È una reazione normale sugli ingredienti irritanti Ma se brucia troppo bisogna lavare via la maschera immediatamente con acqua fredda Per migliorare l'effetto indossare una cuffia in plastica e quella termica oppure un asciugamano aumentando in questo modo le proprietà penetranti delle sostanze attive Dopo lo shampoo risciacquare i capelli con l'acqua e il succo di limone o l'aceto di mele I capelli grassi possono essere trattati una volta ogni 5 giorni Quelli normali, invece, una volta alla settimana L'uso più frequente è sconsigliatissimo Il percorso dura 1-1,5 mesi dopodiché bisogna fare una pausa di 4 settimane per prevenire che la chioma si abitui all'azione delle maschere Ricette naturali Le ricette disponibili e efficaci sono facili da realizzare in casa La ricetta classica della maschera per capelli grassi prevede 3 cchiai di senape e la stessa quantità di acqua calda Il liquido va aggiunto gradualmente nella polvere e va mescolata scrupolosamente per evitare la formazione di grumi Applicare il composto ottenuto sulle radici a lasciarlo agire per 20 minuti circa dopodiché sciacquare i capelli con acqua calda e Poi un'altra volta con fredda Dopo l'applicazione dei composti a base di senape si ferma la caduta I capelli diventano più ordinati e rimangono puliti per più tempo Si attiva la crescita dei capelli nuovi e sani Andiamo a vedere le altre variazioni delle maschere che possono essere usate a casa Idratazione dei capelli Se ha che riscaldare a bagnomaria nei contenitori diversi Un cucchiaino di panna grassa 35% e la stessa quantità di olio di bardana Ammorbidire la stessa quantità di burro Mescolare i componenti e aggiungere un cucchiaino di senape Il composto omogeneo viene applicato sulle radici e va lasciato per 20 minuti in caldo Lavare via la maschera con acqua calda e poi con acqua fredda La maschera ha ricevuto le ottimi recensioni delle consumatrici poiché nutre i capelli e non li rende troppo sei prevedendo l'apparizione Della forfora e favorendo la crescita della chioma La presenza degli oli e dei grassi nella composizione aiuta a recuperare l'equilibrio lipidico e rendere i capelli più elastici Protezione e nutrizione e riscaldare leggermente un mezzo bicchiere di kefir a bagnomaria e aggiungerne un chiaio di senape e un tuorlo d'uovo Mescolare to finché diventi un composto omogeneo Applicare sulle radici I residui vanno applicati sulla lunghezza Coprire la testa e aspettare 20 minuti e poi fare la doccia alternata La senape fornisce un maggiore flusso di sangue ai follicoli piliferi, tivando così la crescita dei capelli I latticini nutrono i capelli con acidi e sali minerali Il tuorlo contiene l'intera gamma di componenti inefici per capelli e crea uno strato protettivo rendendoli più elastici Crescita rapida riscaldare un chiaio di là preferibilmente quello fa in casa e aggiungere un chiaio di lievito e là Stessa quantità di zu, lasciare in un posto caldo per 20 minuti Mettere un chiaino di miele liquido e di senape Mescolare Applicare sul derma massaggiando leggermente la testa Lasciare sotto una cuffia termica per 15-20 minuti Poi risciacquare la maschera Questa maschera per la crescita di capelli con la senape ha un effetto magnifico I capelli diventano 4 cm più lunghi in un mese soltanto Questa maschera è un equilibrio ideale degli elementi rinforzanti e stimolanti e dei componenti protettivi I capelli non solo diventano più lunghi ma anche sani Ridurre la produzione di sebo Mescolare due cucchiai di argilla blu e un chiaino di polvere di senape Aggiungere un cucchiaio di liquore di arniche Due cucchiai di aceto di mele Trattare con la miscela omogenea e nuta il cuoio capelluto e le radici Coprire la testa e lasciare agire il composto per 20 minuti Lavare via la maschera L'unico svantaggio della ricerca è che non è da ai capelli normali e secchi La combinazione dell'argilla blu e della senape è perfetta per regolare il funzionamento delle ghiandole sebacee Si potrà un astunte appiccicoso delle radici Tra l'altro la maschera rafforza e ricostruisce i boccoli Conclusioni L'applicazione di farina di senape può apportare gli ottimi risultati alla ragazza che sognano i capelli lunghi e sani Questo prodotto avvia i processi di scambio e risveglia i follicoli dormienti Ma non ha nessun effeo sul bulbo del cappello morto E risulta assolutamente inefficace in caso dell'alopecia in una fase avanzata Esistono le ricette naturali a base di senape per due tipi di capelli che consente di sceglierne una da perfettamente per Voi E risultati